Estra pianta con mosaico verde 300 alberi nella pineta di Ponente del comune grossetano di Follonica. L'intervento si chiuderà in autunno con la messa a dimora nella pineta di Ponente di altri 700 alberi. Al via la quinta edizione del premio Estra per lo sport riservato ai giornalisti di carta stampata, radio, tv e web e la seconda edizione del concorso Le Buone Notizie di Sport riservato alle società sportive. Anche Estra tra le top utility, le migliori società italiane dei servizi pubblici. Il gruppo energetico leader dell'Italia centrale si è segnalato tra le imprese che prestano maggiore attenzione alla sostenibilità. Bonus sociale, si amplia la platea delle famiglie che possono ottenere sconti sulle bollette luce e gas. Il governo ha infatti deciso da aprile al 31 dicembre di estendere il beneficio fino a 12.000 euro di Isee.